Sì, direi una soddisfazione che abbiamo coltivato dall'inizio, ci abbiamo sempre creduto. Sì, penso che è vero, ognuno in casa sua pensa di aver fatto una grande cosa, però penso che per tutta una serie di ragioni che gli addetti ai lavori conoscono benissimo, penso che quello che hanno realizzato questi ragazzi è qualcosa di incredibile. Penso che in altre situazioni paritetiche altre società sono sempre retrocesse. Questi ragazzi sono riusciti a fare 34 punti, abbiamo ancora una partita, possiamo finire a 37. È una squadra che ha giocato, tra l'altro, nella prima parte, lo voglio sottolineare, anche un grande calcio. Siamo stati propositivi in ogni campo, abbiamo fatto risultati su campi difficilissimi come Gozzano, Legnano, abbiamo battuto la Saremesa, abbiamo battuto il PDA, quindi è stata una squadra propositiva. La seconda parte è stata una seconda parte di grandissima sofferenza, ne siamo stati consapevoli, abbiamo cercato di gestire le difficoltà e siamo poi meritatamente, secondo me, riusciti a raggiungere l'obiettivo. Sì, una seconda parte di sofferenza, ma anche di gestione, perché poi c'è stato anche il cambio del regolamento per le retrocessioni, avete dovuto gestire un buon vantaggio che avevate costruiti. Sì, sicuramente, però ti devo dire che anche sul piano mentale, fisico, ho visto una squadra che sui giocatori fondamentali, oltremodo, purtroppo ha pagato qualcosetta. Rivadisco, non è per voler sempre ripetere le stesse cose, però questa categoria, tutti scontri con quasi tutte le società, giocatori, professionisti, noi non ci vergogniamo a dire che siamo dilettanti, quasi la maggior parte della squadra lavora e poi veniva ad allenarsi alle 18. Quindi il fatto di aver allungato così tanto la stagione a questo ha sicuramente poi creato un problema gestionale e di forze psicofisiche. I ragazzi anche sotto questo profilo mi hanno seguito fino alla fine, io li devo ringraziare, gliel'ho detto prima della partita, sono 28 mesi che io sono qua, questo gruppo sul piano sportivo mi pare che è evidente, lo dicono, basta andare a vedere i tabellini, i risultati che hanno fatto. Ci siamo salvati praticamente il primo anno, io sono subentrato a 8 giornate dal termine, erano ultimi in classifica, abbiamo evitato i play-out. Tutto il secondo anno abbiamo vinto il campionato, quest'anno abbiamo fatto una salvezza che ha del miracoloso, ma a quello che gli ho detto non mi interessano i risultati sportivi, ma mi interessa l'aspetto morale, quello che mi hanno trasferito sul piano interpersonale, questo è un gruppo vero, fatto di uomini importanti, è evidente che poi questi tipi di gruppi con questi valori morali ottengano poi sempre dei risultati. Mister, obiettivo raggiunto, io naturalmente una cosa devo chiedertela, l'anno prossimo sarei sempre qui o dovete ancora parlarne? Assolutamente, neanche lontanamente siamo riusciti ad affrontare il discorso. Mi preme sottolineare che in un panorama di direttori sportivi, mentori di mille situazioni e stracapaci, l'unico che mi ha dato la possibilità di allenare in Serie D è un signorotto di 78 anni, al quale ovviamente lo ringrazio per l'opportunità che mi ha dato, dopo quasi 500 e passa panchine tra promozione quasi tutte eccellenza, e quindi probabilmente chi fa calcio alla vecchia maniera probabilmente ha una visione migliore di tanti altri pseudo direttori sportivi. Detto ciò, ci siederemo oltre alla riconoscenza che ho per Boretto, in dubbia, bisognerà sedersi, bisognerà trovare delle condizioni assolutamente diverse, purtroppo è un campionato che ha delle difficoltà clamorose, mi era stato detto, me lo sono giocato sulla mia pelle, e bisogna trovare delle condizioni sicuramente migliori perché altrimenti il miracolo lo puoi fare una volta, due diventa veramente impossibile.